Il prossimo 24 luglio la città di Agropoli festeggia la Madonna di Costantinopoli, protettrice dei marinai, contraddistinta dalla caratteristica processione a mare tra le feste più sentite dalla popolazione residente, ma anche dai turisti che scelgono Agropoli per un periodo di vacanza. Quest'anno, afferma il sindaco Adamo Coppola, non essendo ancora possibili le processioni, si era pensato di reintrodurre oltre alla banda musicale anche i fuochi pirotecnici a mezzanotte. Ma la risalita dei contagi legati al Covid-19 in maniera diffusa ci impone ancora una volta prudenza. I fuochi pirotecnici hanno da sempre grande presa e si correrebbe il rischio di creare assembramenti con conseguenze che possiamo immaginare in termini di contagi. Non possiamo permetterci passi falsi, conclude Coppola, che potrebbero compromettere le settimane a venire. Da qui la scelta di comune accordo con il parroco Don Carlo Pisani e con il Comitato Festa di ridurre il programma e di non prevedere più i fuochi. Le celebrazioni in onore della Madonna di Costantinopoli si svolgeranno alle ore 20 con la Santa Messa presso il porto di Agropoli, alla quale seguirà il concerto della Grande Banda del Cilento.